Medjugorje e Mirjana, annuncio tremendo, finirà tutto dopo questa stretta di mano rimane poco tempo. Iscriviti al canale per non perderti altri video. Mirjana, nota veggente conosciuta per i suoi messaggi profetici, si era recata alla piccola cappella dove da anni incontrava la Vergine Maria. Questa volta però, l'atmosfera era diversa, carica di una tensione palpabile. Mirjana era in preghiera quando improvvisamente una luce intensa riempì la cappella. La Vergine Maria apparve davanti a lei, il viso sereno ma con un'ombra di tristezza nei suoi occhi celesti. Con voce dolce ma grave iniziò a parlare, figlia mia, il tempo è giunto. Due leader tra i più potenti al mondo stanno per stringersi la mano. Questo patto porterà con sé paura e confusione tra gli uomini. Un leader è asiatico, l'altro europeo. La loro unione segnerà l'inizio della fine. Nel cuore dell'Europa, in una città antica ricca di storia e intrighi, due uomini si incontrarono. Uno, l'incarnazione del potere e della tradizione asiatica, con occhi scuri e penetranti, portava con sé l'eredità di un'antica civiltà. L'altro, espressione dell'ingegno e della resilienza europea, con un viso segnato dalle battaglie politiche, rappresentava un continente sempre in bilico tra progresso e decadimento. Quando le loro mani si strinsero, il mondo trattenne il respiro. Non si trattava solo di un gesto diplomatico, ma di un simbolo potente. La stretta di mano era il suggello di un patto che prometteva mutua difesa contro qualsiasi minaccia esterna. Ma al contempo, era un avvertimento per tutti. Chiunque si opponesse a questa nuova alleanza sarebbe stato schiacciato. La Vergine Maria aveva avvito che entro quattro mesi tutto sarebbe finito. Ma cosa significava veramente? Era la fine del mondo come lo conosciamo, o il preludio a una nuova era di sofferenza e purificazione? Molti iniziarono a vedere segnali ovunque. Il cielo, un tempo azzurro e limpido, era ora attraversato da nubi nere e minacciose. I mari, che avevano portato vita e prosperità, iniziavano a ribollire con una furia inaudita. La terra stessa sembrava gemere sotto il peso di una maledizione antica. La notizia si diffuse rapidamente. Da ogni angolo del globo, la gente iniziò a prepararsi per l'inevitabile. Le chiese si riempirono di fedeli in cerca di conforto e redenzione. Le preghiere salivano al cielo come un coro disperato, sperando in un miracolo che potesse invertire il corso degli eventi. Gli scienziati, da parte loro, cercavano di comprendere il fenomeno. Ma ogni loro tentativo di spiegazione si scontrava con l'irrazionale e il soprannaturale. La natura stessa sembrava aver dichiarato guerra all'umanità. Terremoti, eruzioni vulcaniche, tempeste, tutto sembrava annunciare un cataclisma imminente. Nel frattempo, i due leader continuavano a tessere la loro alleanza. Il patto siglato in quel giorno fatidico non era solo una dichiarazione di intenti, ma un progetto dettagliato per ridefinire l'ordine mondiale. Le economie si sarebbero integrate, le forze militari coordinate, le risorse condivise. Ma a quale prezzo? Le altre nazioni guardavano con sospetto e timore. Alcune cercavano di negoziare la propria posizione, altre preparavano piani di emergenza. Ma tutti sapevano che qualsiasi resistenza sarebbe stata vana. Il potere congiunto di queste due superpotenze era semplicemente troppo grande da affrontare. Mirjana, nel frattempo, continuava a ricevere visioni. Ogni notte, sogni inquietanti le mostravano scenari apocalittici, città in fiamme, fiumi di sangue, urla disperate. Ma c'era anche un messaggio di speranza. La Vergine Maria le aveva detto che, anche nel più profondo dell'oscurità, la fede avrebbe potuto salvare le anime pure. Il messaggio di Mirjana diventava sempre più urgente. Ravvedetevi, cercate la luce della fede. Solo attraverso la preghiera e la penitenza, l'umanità potrà trovare redenzione. Il tempo scorreva inesorabile. Ogni giorno che passava avvicinava l'umanità all'epilogo profetizzato. Le tensioni crescevano, i disordini aumentavano. Sembrava che il mondo fosse sull'orlo del caos totale. La gente cominciava a vedere presagi ovunque. Un'eclissi solare che oscurava il cielo, strani comportamenti negli animali, fenomeni atmosferici inspiegabili. Ogni evento era interpretato come un segno del prossimo castigo divino. Nonostante il terrore crescente, c'era chi non si arrendeva. Comunità di fedeli si riunivano in segreto, pregando e sperando in un intervento divino. Questi piccoli gruppi, guidati da una fede incrollabile, si impegnavano a mantenere viva la luce della speranza. Organizzavano reti di sostegno, condivisione di risorse e momenti di preghiera collettiva. Credevano fermamente che, anche di fronte alla distruzione imminente, la bontà e la fede avrebbero potuto fare la differenza. I quattro mesi stavano per terminare. E se un figlio era palpabile, poi il giorno tanto temuto arrivò. Il cielo si oscurò improvvisamente, un silenzio inquietante avvolse il mondo. Poi un rombo assordante, come il fragore di mille tuoni, squarciò l'aria. La terra tremò, il mare si alzò in onde gigantesche, il vento ululava con una forza devastante. Era come se l'intero pianeta stesse ribellandosi alla presenza umana. La profezia di Mirjana si stava avverando. Ma in mezzo a questo caos, qualcosa di straordinario accadde. Proprio quando tutto sembrava perduto, una luce intensa apparve nel cielo. Una figura eterea, avvolta in un manto di luce, discese tra le nubi. Era la Vergine Maria. Con un gesto della mano, placò le forze della natura. Il vento si fermò, le acque si calmarono, la terra smise di tremare. La Vergine parlò con una voce che risuonava come una melodia celestiale. L'umanità ha commesso molti errori, ma c'è ancora speranza. Questo è un avvertimento e un'opportunità per redimersi. Tornate alla fede, amatevi l'un l'altro e potrete evitare il peggio. Il mondo, pur segnato dalle cicatrici della distruzione, iniziò un lento processo di rinascita. Le persone, toccate dall'intervento divino, riscoprirono i valori della solidarietà e dell'amore. Le nazioni, un tempo in conflitto, iniziarono a collaborare per ricostruire ciò che era stato distrutto. La profezia di Mirjana, inizialmente temuta come annuncio di una fine inevitabile, si rivelò essere un monito. Un invito a cambiare rotta, a ritrovare la propria umanità. E così il mondo, pur trasformato, riprese il suo cammino, più saggio e consapevole di prima. L'annuncio di Mirjana rimarrà per sempre impresso nella memoria dell'umanità. Un ricordo di un momento in cui il destino del mondo era appeso a un filo, ma anche un promemoria del potere della fede e della speranza. La fine non era giunta, ma un nuovo inizio, carico di promesse e opportunità, aveva preso il suo posto. Così, mentre le generazioni future si racconteranno questa storia, ricorderanno sempre che anche nel più buio dei momenti, c'è sempre una luce pronta a guidarci verso la salvezza. E che la vera forza dell'umanità risiede nella sua capacità di credere, sperare e amare. Con il passare dei mesi, le cicatrici del cataclisma iniziarono a rimarginarsi. Il mondo procambiato ovviamente trovò un nuovo equilibrio. Le nazioni che avevano stretto il patto iniziale continuarono a collaborare, ma non più sotto la minaccia di distruzione, bensì con un rinnovato spirito di unità e cooperazione. Mirjana, ormai considerata una figura quasi mistica, continuava a ricevere visite da persone di ogni parte del mondo, in cerca di guida e conforto. La sua umiltà e la sua fede incrollabile ispiravano milioni di persone. Ogni suo discorso, ogni sua apparizione pubblica, era un richiamo alla fede, alla pace e alla solidarietà. Un giorno, mentre parlava a una folla riunita a Medjugorje, Mirjana condivise una nuova visione. La Vergine Maria mi ha mostrato un futuro di luce, disse. Un mondo in cui le persone si aiutano reciprocamente, in cui la guerra e la miseria sono solo un ricordo. Questo futuro è possibile, ma dobbiamo lavorare insieme per costruirlo. Le parole di Mirjana divennero il fondamento di un movimento globale. Le nuove profezie, meno apocalittiche e più orientate alla speranza, spinsero le persone a prendere azioni concrete per migliorare il mondo. Grazie a tutti.